amici di risoluto siamo nuovamente in via ulisse siamo tornati oggi una giornata meravigliosa una domenica fantastica dal punto di vista climatico ma il letargo più totale riguarda invece la situazione delle strade via ulisse sta sprofondando sempre di più c'è stata una riunione una conferenza di servizi così è stata chiamata da parte dell'amministrazione comunale per risolvere il problema è stato annunciato nel giro di una settimana si potevano risolvere i problemi qui in via ulisse invece siamo col signor falco per dire che invece qua va sempre peggio peggioriamo senz'altro ma questo già loro lo sanno non è che una novità perché è l'ennesima volta che si realizzano questi problemi qua se lei vede bene c'è per ora la macchina di persone che vengono per farsi un giretto e sono costretti a metterla qua sopra la macchina non riescono più a passare perché hanno naturalmente paura l'autobot che mi porta l'acqua fra non molto non potrà più passare di qua e poi vediamo se la giunta comunale mi mette un rubinetto che mi arriva l'acqua a casa perché significa non lo so dobbiamo la faccia e bere con l'acqua di mare solo questo si tratta dunque qua non realizza nessuno niente fanno chiacchiere e basta ci sono i chioschi che hanno bisogno di lavorare e non possono lavorare perché come fanno non c'è niente completamente nessuno mette una pietra al posto giusto i muri continuano a cedere e cadere i massi qui sprofonda continuamente l'acqua grazie a dio non ci manca dai terreni che scola e non mancherà tanto all'arrivo della bella stagione quando qua dovrebbero arrivare i turisti dovrebbero arrivare i bagnanti ma anche questo certo ma la cosa più importante che i chioschi che sono qua non possono realizzare niente perché non possono nemmeno iniziare a fare i lavori di ripristino di tutte le altre cose insieme a noi c'è anche il signor Falco è un residente tutto l'anno qui in via Ulisse invece abbiamo anche il signor Kramer che invece è un turista turista che arriva dalla Germania che significa trovare questo stato di abbandono qui in un posto veramente bellissimo il posto è bellissimo ma questa strada che non si può passare e per noi è molto importante dobbiamo fare la spesa dobbiamo andare qualche volta all'ospitale o qualcosa che succede qualche emergenza non neanche possono passare anche per l'acqua come detto mio cognato questa acqua potabile che portano hanno problemi pure queste delle come si chiamano che le mondizie che lo prendono loro non vengono volontieri perché hanno paura che succeda qualcosa no signor Kramer senza entrare nel solito cresce della Germania che sappiamo ma in Germania le è mai capitato di vedere una strada così così no perché subito quando c'è qualcosa di questo lo riparano subito la strada non è una cosa che rimane mese per mese intanto da via Ulisse tutto aspettiamo che arrivi la primavera che l'amministrazione si dia una mossa per sistemare questa situazione davvero di grande disagio e soprattutto in un punto meraviglioso della nostra costa grazie a tutti